Entro l'estate la restituzione di Palazzo Ardinghelli alla città, poi l'apertura della succursale aquilana del Museo Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo fondato a Roma nel 2010, entro l'autunno di quest'anno. Anche se, con un ritardo di diversi mesi, la promessa del segretario generale della Fondazione Maxi, Pietro Barrera, era di un'apertura in tempo per l'anniversario del sisma e quindi in questo mese di aprile, e nonostante le polemiche e le opposizioni al grande progetto culturale museale all'interno dello splendido Palazzo Ardinghelli restaurato con i fondi del governo russo, dunque il Maxi L'Aquila sarà una realtà, un luogo di produzione di cultura e non di assistenza alla cultura, spiega Barrera. Il segretario rassicura sull'apertura della sede e fornisce qualche dettaglio sulla sua mission e sulle attività. Intanto serviranno 2 milioni di euro all'anno per la gestione e per le attività. Dovremmo avere nell'estate, nel momento più bello della città, la restituzione a pieno titolo di Palazzo Ardinghelli agli Aquilani e a quel punto si tratterà di correre, correre, correre perché il museo, in quanto museo, beh, insomma io vorrei proprio aprirlo al pubblico prima che si concluda l'anno del decennale. Dottor Barrera, che cosa troveremo all'interno di questo museo? Allora, intanto troveremo il fatto che 7 artisti, 6 italiani e una giovane artista russa, hanno progettato, stanno realizzando e collocheranno dentro Palazzo Ardinghelli delle opere pensate per l'Aquila, per Palazzo Ardinghelli, opere originali. Queste 7 opere, diverse, dialogheranno con opere della collezione permanente del Maxi. Una delle idee forti è quella di utilizzare la collezione permanente del museo, che come tutte le collezioni, in parte esposta, in parte va in cantina, invece si è messa in circolazione e sono proprio quei 7 artisti a scegliere le opere della collezione del Maxi che più si prestano a dialogare con le loro nuove realizzazioni. Quale sarà il rapporto con le associazioni culturali, artistiche e locali? Deve essere, come dire, la carta vincente. Senza quel rapporto non solo non sarebbe utile, ma rischerebbe perfino di fallire l'operazione Maxi. Per questo ne abbiamo iniziato fin dall'inizio ad avere rapporti, da un lato con le istituzioni, l'università, il Gran Sasso Society, l'istituto, l'istituzione sinfonica, il teatro stabile. Dobbiamo far cose insieme, ma poi anche, come dire, quella vitalità di base, che è una delle caratteristiche straordinarie dell'Aquila e che deve entrare dalla porta principale.